Ciao, creatura! Io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kuzai e S.M.A. Siamo qui nel 2010 in questa nuova casa e non so se faremo quattro stanze, due stanze, una stanza, andiamo a vedere. Vedo che già il salotto ha ben quattro scatoloni e vediamo poi nella stanza c'è la cucina che è bellissima, ha quattro scatoloni anche la cucina. Vediamo, il Magic Bullet, chi se lo ricorda il Magic Bullet? Fantastico! E il bagno, guarda, fuori dalla finestra, è la prima volta che si vede fuori dalla finestra, è notte, c'è una città fuori, in movimento. Wow, che bella questa casa, molto estetica, con questo nero grigio, da adulto sì, effettivamente. Bellissimo, anche la camera, ci hanno già posizionato la sveglia stavolta, l'armatico è gigante, bellissimo, bellissimo. Anche qua abbiamo quattro scatoloni, va bene, dai, andiamo come al solito dalla... No, sono cinque gli scatoloni, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, non l'avevo visto. Sei addirittura, probabilmente faremo due stanze, questa volta due stanze, la prossima volta. Io, come sempre, ti ricordo di lasciare un like, subito e immediatamente, per supportare il canale, per supportare me, soprattutto. E poi, beh, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, ma sono sicura già che chi guarda questi video, cioè creature che tu sei già iscritta, perché non lo metto in dubbio. E, vabbè, se non l'hai fatto, iscriviti e poi mi lasci, come al solito, come tutte le domeniche insieme, un bel... Una bella emoji random, quella che ti ispira in questo momento. E così passiamo una bella domenica insieme. Io te le carico al pomeriggio, alle due del pomeriggio e video, perché così ti fai la tua bella penichella dopo pranzo. Però so che anche qualcuno adora comunque guardarli alla sera, prima di dormire. Quindi buon pomeriggio e buona serata insieme. Allora, andiamo subito ad aprire in questa stanza, che vedo un sacco di scatoloni, quindi vedo poco spazio e un sacco di scatoloni. Ci piacciono gli insetti, comunque, perché la nostra passione per i videogiochi, per la musica e per gli insetti è rimasta. Da quale iniziamo? Da qua, che ce ne sono di più. Lo spieghiamo qua. Lo spieghiamo qua, dai. Liberiamo questo passaggio. Eh, giustamente, questa torre di Pisa ce la siamo portata dietro, portata dietro negli anni. Anche la torre Eiffel. Eh, manca il pass. Allora, intanto i libri sono sempre gli stessi, li mettiamo qua e là, poi vedremo come al solito, perché possiamo metterli qua, ma potremmo metterli anche, non lo so, qua c'è poco spazio. No, in realtà, da nessuna altra parte. Ancora non ci stanno. Mettiamolo qua, questo. Eh, sì. Ah, il nostro blocco dei disegni. No, ok. Stavo già triggerando male, che non l'era messo come volevo, ci detti. Oh, eccolo qui, io stavo cercando proprio te. E vabbè, uno scatolone è andato. Il dato, il nostro doroso dato, per i giochi di ruolo, anche qui c'era dello spazio volendo, qua si può mettere qualcosa. Poi, le nostre action figure da dipingere, che non verranno mai dipinte, perché negli anni le avrebbe già dipinte. Adesso. Un culelle. Ah, qua ci sarebbe stato bene il culelle. Non si può appendere. Allora, spostiamo qualcosa. Già meglio. Questo sarebbe bene anche qua. Sì. Mutande. Mutande, 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 mutande. Mutande. Oh, qua abbiamo un sacco di spazio. No, ma volevo... no. Ah, ma posso spostarli questi? Che bello, quindi posso fare le mie coreografie. Devo... una cosa del genere. Per esempio, secondo me, quelle non sono mutande, ma sono calzini, quindi... Secondo me viviamo con un uomo. O siamo noi l'uomo, non ancora non l'ho capito, comunque. Ci sono troppi calzini per essere... perché poi questi sono tutti con queste colorazioni qua, scure, che di solito le... Dovino a questo sto per fare... che queste colorazioni qua sono quelle per gli uomini, no? Di solito io le ho tutte così. No, non è vero. Allora... Andiamo a vedere... un altro DVD, questo sarebbe un altro DVD, vuol dire che c'è qualche videogioco che ho messo qui, ecco qua, questo diventa un videogioco perché l'ho deciso io, poi ci sono degli altri libri e così. Tanto se mettiamo qualcosa fuori posto il gioco si arrabbia, fine gioco e sclera e dobbiamo... quindi questo si sposta, tanto lo mettiamo un attimo qua, che così con la musica, le vibrazioni, no poverino lo mettiamolo qua. Bene, andiamo. Sì, il nostro pollo, il nostro amico pollo, la nostra gallina, la nostra amica gallina, e me la metterei in camera però, non è molto... tanto poi non lavorerà qua il gioco, sono sicura, ma non mi interessa, e me è troppo bello quel pupazzetto, per essere messo dentro un cassetto, pure qua non c'è più posto, cioè dove lo metto? Eh, per forza devo mi trovare sul comodino, non so se stava qua, aspetta, 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 fammi controllare... no, qui non ci sta, qui non ci sta... la mettiamo qua, per adesso... questa di solito la mettiamo in camera, dentro all'armadio, quindi... scusami ma questo mi li fai spostare? Ah, benissimo, cravate, spostiamole... ok... torniamo qua... ecco suo figlio, molto bene... oh, guarda il sederino, si può girare? No, che caruccio... no, vabbè, super carino... un altro libro, un altro sketchbook... ok... la coperta che avevamo messa sul divano, noi non ci ha dato errore, quindi immagino che debba restare sul divano... un altro blocco da disegno... qua è il... il journal... lo mettiamo lì... un altro blocco da disegno... il videogioco, che qui non ci sta, lo possiamo mettere qui, lo possiamo mettere anche qui... che bello, sembra una sorta di Tony Dark, come versione nera e viola... è però... Tony Dark, così stare davanti, eh... ok... ah, giusto, li possiamo mettere qua... questa qua era la trilogia che avevamo... se ci stanno tutti li mettiamo qua... vediamo... se ce ne sono altri... eccoli qua la trilogia... trilogia perché avevano questa parte qui della copertina, no? quale... simile... qua, guarda quanti disegni abbiamo fatto... ecco questo libro qua, me lo ricordo, solo che... dove lo mettiamo... c'è più posto... tutto disordino, no, d'accidenti... se questo non stesse così... ah, ma si può spostare... vado bene... perché occupa troppo spazio... vabbè... allora... siamo calmi... ok... cioè quando lo metto qua sembra più basso, quando lo metto là sembra più alto, insomma... decidiamoci magari... no... ok... se è che io ho la mania che devo metterli... dal più alto al più basso... perché... sennò brutto... non si può appoggiare questo da qualche altra parte... no... mi piace qui... piuttosto lo metto qua... oh no... altri libri... non ci sto più niente... no... questo è più alto... ok... altri libri fantasy... ne abbiamo tantissimi... qua non ci sto più niente... tanto poi me l'ho fatta vogliere... non sicura... ecco qua... no... è di quella consola... quella... oh mio Dio... come la fa mettere... stanno qua volendo... ah... quella maledetta consola... non so proprio dove mi metterla... no... dai... mettiamolo qua... mi piace di... ah... quello lo posso spostare... quindi volendo li posso mettere così... sì... ok... già meglio... quindi... alcuni oggetti... ah... vedi... alcuni oggetti... me li fa spostare... anche... l'altra volta invece no... quel che c'era dovevano tenerlo scusate ma questo e questo no pensavo ad esserlo insieme anche volendo si può fare così sono sotto bicchieri forse potrebbe essere non lo so ho dato una ginocchiata perché vedo che alcuni oggetti anche se erano già qua eh vedi me li fa spostare però questo non c'è più posto per questo qua quindi in realtà potevamo metterli tutti qui forse vediamo no dubbio volendo possono mettere tutti qua quindi qua dopo qui ci sta altro tipo per esempio però no non mi piacciono vabbè questo l'ha un picco cos'è per fare i cocktail vabbè ci penseremo come volendo ci stanno quindi altri videogiochi parra film non li mettiamo qua no oh il cucciolino nero no ma che cute però qua non ci stanno tutti accidenti qua non me li mette guarda c'è il cederino ma che bugi solo che questo qua sta solo lì non sto in c'è un'altra parte non lo mette appeso quindi per forza lo metterò qua però forse vediamo è meglio voglio mettere insieme quindi allora la famiglia è stata unita cioè allora qua non me la mette quindi lo metterò così come tengo il dato a casa naturalmente poi così così e così ecco dai ci sto ci sto tutto poi un altro film di gioco quel che è ma ce ne stanno più a c'è anche oh no qui non ce ne stanno più mettiamo qua eccolo maledetta allora questo cos'è un videoregistratore cos'è sta roba un altro console credo che abbia a che fare con questo allora fammi pensare questo sicuramente lo vorrà qua questi non li vuoi qui sì ma ce ne stavano solo aspetta ho perso qualcosa qua però volendo ce ne oh no non ce ne stavano due allora questi non li posso mettere così perché no eccitanti eccitanti questi potrebbero stare così questi così non li vuole mettere non li vuole stare così questo qua sparisce e non li non ci sta più se avessero fatto in modo che i controller stessero sopra alla console solo per starci non perché capito sarebbe stato tutto più facile ma no niente se io sposto questi ci stanno adesso però questo non ci sta comunque qua quindi è inutile però se io metto no stavo perdendo scusa ma questi qui qua non ci stanno qui non ci sta altro qui non ci sta altro però scusami non ci sta proprio cioè non ci sta proprio cioè io posso anche fare e allora mettiamo qua tutti i giochi qui ci sono altri qui ci mettiamo questo non ci sta più niente eh dai già meglio così difficile da scegliere una scelta difficile anche perché perché ce n'è uno rosa stona prendere tutti e due blu scuse già vabbè oh no altri libri oh no questo non ci sta ah ci sta perfetto oh no altri libri il mio incubo lo rimettiamo su tutti questi libri accidenti accidenti un attimo ok no Donnie Dark deve stare sopra ok ok allora c'è questo libro qua che non so dove mettere scusami ma Donnie Dark deve stare sopra ok no ma non ci sta perché forse anche in altezza non ci sta ci starebbe qua sopra ma non mi piace questa cosa per niente qua giù ci sta mettiamo qua giù o no non ci stanno più stati vestiti accidenti allora fammi pensare tanto poi sicuramente non gli andrà bene qualcosa in camera non ci sta neanche un libro tanto per capire allora qua ci sta almeno lì ci sono dei libri bassi attenzione attenzione colpo di scena allora torniamo qua c'erano questi qua passi allora questi passi li mettiamo li mettiamo qua così si libera un po' di spazio per altri libri che sono questi qua perfetto quella lì lasciamo lì per adesso certo schiaviamo qua ok questo sicuramente va qui a Pisa ok poi l'altro libro che però dovrebbe starci qua speriamo non escano altri libri perfetto però in realtà mi sono accorto che questi qua sono piccoli quindi forse ce ne sta un altro di quelli piccoli vediamo ultimo allora grigio insieme perfetto ah sì uno è lignissimo alla fine hai visto? eh che strategia veniti speriamo non escono altri libri allora questo lo possiamo mettere qua boh appunto così mi piace ok andiamo a fare un'altra stanza facciamo c'è la cucina facciamo il bagno dai dopo lasciamo cucina e camera da letto adesso facciamo il bagno e non è molto bello questo gioco mi piace tantissimo il bagno ha una doccia semplice molto più piccola dell'altra che avevamo nell'altra casa e bella però minimal molto estetic devo dire anche qui non abbiamo non abbiamo molto spazio e vedo che asciugamani sono già stati messi giù abbiamo un cassetto piccolo dove ci sono alcune cose che possiamo anche spostare asciugamano per le mani vedo che noto che come al solito non c'è il bidet vabbè mi riusciamo a perdere questi dettagli infatti stavo dicendo nella mia testa stavo pensando ma perché l'asciugamano per il poppy è così lontano e poi ho detto no questo è l'asciugamano per le mani il poppy non te lo lasciuchi da nessuna parte perché non c'è il bidet vabbè ho il nostro beauty che avevamo messo quello con il make up l'avevamo messo dentro allo specchio nella scorsa puntata e beh la stuma da barba andrebbe qua tutto insieme allora qua facciamo creme e make up un po' troppo in alto forse però vabbè c'è uno spazzolino elettrico e uno spazzolino da denti normale intanto lo mettiamo qua e il tagliaunghie possiamo metterlo qua l'altra volta ci ha ci ha fatto osservazione perché la il rasoio la lametta l'avevamo messa via e invece la voleva fuori a me fuori non piace quindi finché posso decidere decido di metterla via dentro un cassetto se poi lavora fuori che fa schifo lo metteremo fuori questo bicchiere potrebbe essere siccome è un po' vedi rovinato lo mettiamo qua dopo se lei vuole farmela usare come tazza in cucina lei lui il gioco faremo così per adesso io direi di usarla così visto che è un po' scheggiata non ci si può aprire perché è pericoloso ci si potrebbe tagliare quindi la usiamo per logica dal mio punto di vista la usiamo per riporre lo spazzolino da denti in bagno qua abbiamo detto che mettiamo le creme questo era per la pulizia possiamo metterlo qua dentro se no qua non ci sta bene mettiamo qua questa maglietta questa t-shirt i fiammiferi li metteremo no 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 li metteremo aspetta mettiamoli mettiamoli qua che bella questo bilancio è bellissimo molto bello bilancio da cucina a me piacciono tanto ne ho due una misurata solo per quella no sono sempre i soldi assorbenti ok non ho la collezione degli assorbenti lei li teneva fuori ho visto non mi piace questo così di tenere gli assorbenti fuori onestamente però li metteremo qua sopra basso basso bagno schiuma basso shampoo non so uno di queste tre cose la piastra per i capelli si sta qua perfetto la pistecchiera la pistecchiera la mettiamo quindi no scassa la vorrei folgurarmi di nuovo allora fammi vedere qua che cosa abbiamo a disposizione ci sta qua la pistecchiera ovviamente no io non la vorrei lasciare si può mettere anche qua dentro io non la vorrei lasciare fuori però mi so che ci tocca lasciarla fuori mi piace che si possono spostare anche le cose che hanno riposto loro però appunto la metterei qua la pistecchiera ok bello perché mi piace che ci sia il vetro che si vede cosa c'è all'interno però adesso lo lasciamo così poi vediamo oh giustamente vedo che siamo ancora fertili quindi abbiamo un sacco di assorbenti è un profumo questo possiamo lasciarlo qua vorrei metterlo qua tra nel nostro ripiano dove abbiamo le nostre cremine e le cose per il make up però meglio che stia a portata di mano profumo secondo me questo credo sia un dopo parbo la spazzola ah il kit del pronto soccorso mi sa che andava qua e gli assorbenti schiaviamo qua per adesso quella cosa che non sappiamo se sia fino a interdenziale o deodorante roll on va bene va bene terminiamo qua la prossima volta faremo la cucina e la camera da letto e va bene è sempre bellissimo passare con te questa domenica insieme e rilassante e come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura buon楽 per la per la passare con te